Belli rega, altra parte della guida Pokémon Rubino Allora, io sono qui a Blurubia Perché in questa parte, prima di andare a battere la Lega Andremo nella vecchia nave che si troverà in questo percorso Nella vecchia nave ci saranno vari strumenti, così li esploriamo Ci sono anche degli allenatori da battere per allenare un po' i Pokémon Vi faccio vedere una cosa Ho catturato un Bagon Nelle cascate meteora L'ho preso al 30 Conosci delle mosse di merda, tranne botti in testa e bracere Quindi ora lo alleno un po' Quindi mettiamo davanti lui Poi quando si sarà evoluto in Salamence Penso che metterò giù Suello Perché insegnerò magari volo a Salamence Che è l'evoluzione di Vagom Così perché Agron lo volevo tenere per la Lega E l'unico che potrei mettere giù è proprio Suello al posto di Salamence Comunque vabbè ci penseremo Ora iniziamo Ad andare Pettiamo un repellente E iniziamo a battere tutti questi allenatori Botti in testa Bravo 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 Vagom Dai Bravissimo Ok è la prima volta che lo uso Perché proprio L'ho catturato Praticamente poco prima di farla a parte Quindi L'ho catturato con una Ultra Ball Cioè l'ho prima paralizzato con Con coso Con Con tuono onda E poi L'ho catturato con tipo 8-9 Ultra Ball Perché non avevo Pokémon tanto deboli Cioè se lo attaccavo lo uccidevo E quindi ho dovuto Ho dovuto catturarlo così Con tutta la vita Però era paralizzato Quindi un pochino Mi sono facilitato il lavoro Ma non di tanto Intanto Vagom è quasi al 31 E stiamo per raggiungere la vecchia nave Che si trova appunto nel percorso 108 Eccolo qui Livello 31 Maril Ok Ed ecco Che si evolve A livello 31 Cioè no Forse si sarebbe evoluto anche prima Ma dato che io ce l'avevo al 30 Si è evoluto al 31 Non so bene a che livello si evolve Mi scelgo Comunque Vediamo le statistiche Evita contraccolpi Quindi è molto utile Vabbè adesso comunque Non è ancora il Pokémon definitivo Quindi non ha ancora tutte le statistiche Ben Ben fatte Non ho più PP Ecco questo è un po' un casino Facciamo Bracer No Bisogna cambiare Pokémon Mettiamo Shoptile Ma voglio dire Se uno è Voglio dire Confuso E fa assorbimento su se stesso Non dovrebbe farsi niente O sbaglio Cioè Voglio dire Assorbimento è una mossa che ti dà Un po' di PS che perdi Quindi Boh Vabbè comunque Lì c'è già la nave Appena finiscono sti Pokémon di merda Oh là Entriamo Vediamo se ho un Elysir Si Ascelgo Ok Iniziamo ad esplorare questa nave Questa nave ci saranno molti strumenti Cioè molti strumenti Ci saranno Si Soprattutto se riusciamo a trovarla L'MT Geloraggio Che vorrei insegnare a qualcuno Assolutamente E poi O Dente Abissi O Squam Abissi Mi sembra che si chiamano così Queste sono le cose importanti Che ci sono in questa nave Intanto Il nostro Scelgo Stava per crepare Lo ricarichiamo Poverino Stiva Ecco Qui dentro ci sarà L'MT Geloraggio Se noi riusciremo a trovare la chiave Ci potremo entrare e prendere l'MT Vediamo se facciamo sub Cosa c'è qui Non ci sono mai venuto Oh mio Dio Ma cos'è sto posto? Siamo arrivati qui Io volevo stare là Vabbè Dopo ci torniamo Ah beh Sì Qua ci sono Pietra idrica Questo è vuoto La porta è chiusa C'è cabina 2 Cabina 1 Niente Non ci fanno entrare Cabina 6 E cabina 4 Niente Ok Abbiamo esplorato anche questa parte Possiamo tornare indietro Entrare in questa cabina Prendere questa fune di fuga Ma lo zaino è pieno Vabbè La lascio volentieri La fune di fuga Battiamo questo ranger No Non ti fai battere Sei un negro Oh Cagami Vabbè Ci dice che ci sono quanti tesori Lo sappiamo Una sub ball Battiamo questa ciambellina No ciambellino Non ciambellina Lo ciambellino Boh Revitalizzante E battiamo pure questi due Lotto in testa E E fuoco pombo Dai Per stare tranquilli Shellgon Al 32 E vai Ovviamente lo allenerò tantissimo Shellgon Cioè Non dovrei nemmeno dirvelo Cioè Mi sembra abbastanza ovvio Come cosa Oh Bambina di merda Ok Allora Vediamo un po' Dove può essere La chiave della stiva Bobo Messaggio porto Qui c'è il signore Vediamo di qua È vuoto Ma di qua si esce Eh Quindi Dove sarà questa chiave stiva? Non me lo ricordo Boh Chissà C'è scritto stiva Eh vabbè Ho capito ma A me serve la chiave Sai com'è? Qui c'è la bambina Ah no Ecco Sì ecco Infatti mi pareva Oh Eccoci qua Questo dice Ci dà anche lo scanner Ecco la chiave stiva A noi lo scanner Non ci interessa A me basta andare a prendere L'MT Geloraggio Sinceramente Perché del dente Abissi Scomabissi Non Ok Ed eccola qui L'MT 13 Geloraggio Chi le insegno Sullo sciarpito Qua Al posto di Al posto di Riduttore Ok Questo è vuoto Ok La Vecchia nave Può considerarsi finita Perché Io avevo semplicemente Intenzione di Prendere L'MT Geloraggio E Mettiamo un repellente E proviamo ad andare avanti Fattiamo Questi bimbi Basta Porti in test Porti in test Salamence Diventa veramente Forte Cioè la terza evoluzione Di Vagon È davvero forte Battiamo anche Questa coppia No Bracere E lanciafiamme E sempre Bracere Lanciafiamme Ok Scelgo Nel 33 Battiamo Questo cinno E l'ultimo Botti in test È per Carvagna Vediamo se ho Degli altri Elisir O cose del genere E siamo tornati qui Ok Continuiamo a battere Allenatori su allenatori Per allenare Vagon Sì Vagon Shelgon Ormai È diventato Shelgon Questo è Un pipi su Ma non mi interessa Può rimanere Tranquillamente lì Vedanto a me Non dà fastidio Battiamo queste Bambine Dai E anche questa Sì ho pensato Di prendere Vagon Perché effettivamente Un pokemon Drago Serve Di squadra Perché Cioè diciamo Che può essere Sconfitto Solo Da un tipo Ghiaccio O da un tipo Drago Quindi è Abbastanza Utile Cosa dite Quindi Facciamo Volo Adesso Dove potremo andare Fatemi pensare Manca solo Rocea A Eridopoli Ci possiamo già andare Perché Sono andato a curare I pokemon Una volta E quindi E quindi adesso Ci si può andare Quindi sì Io direi di fare volo A Eridopoli Bene Qui c'è La via vittoria Che esploreremo Non so se adesso Cioè non so se Nella prossima parte O quella dopo ancora Perché Ci sono altre cose Da fare Tipo Aspettate Cos'era Boh Ce l'avevo in mente Prima Cavolo Vabbè Mi verrà in mente Comunque Porca troia Non mi viene Vabbè Poi comunque Vedrete nella prossima parte Che cosa faremo Quindi Direi che questa parte Può terminare qui Perché volevo Semplicemente andare Nella vecchia nave E Basta Un saluto da Millefalchi94 Belli rega Un saluto da Un saluto da Grazie a tutti.